buon pomeriggio velocemente scusate sempre sta voce qui ma ci vuole qualche giorno ma che passi allora ringrazio ronzo per avermi avvisato subito ringrazio andrea per il super grazie disposizione post italiane il 26 ragazzi sapete che può capitare che la disposizione domani e poi il pagamento lo fanno 27 tenete conto del fatto che post italiane poi fa il cacchio che ne ha voglia però abbiamo abbiamo la data controllate appunto se avete visto comparire la data si sta ripresentando qui ringrazio moreno di avermi avvisato lo stesso problema che si è presentato un mese fa non hanno fatto a tutti le lavorazioni anche se non ci sono indicazioni di sospensione o altro li stanno spezzando ancora in due giornate io non lo so in due o più giornate non so perché fanno così non sono tante le domande non sono tante le lavorazioni da fare ma continuano sistematicamente a fare così quindi anticipiamo il video di venerdì lo anticipiamo domani poi se domani post italiane fare il solito casino facciamo un mini video anche anche venerdì comunque noi ci risentiamo domani controllate verificate fatemi sapere se avete trovato tutto e spero che poi risolvano ancora una volta questa questione allucinante del dello spezzare in più giorni anche le lavorazioni di fine mese piccolo inciso continuano mi segnalano ancora la presenza dell'errore 502 nella verifica del saldo della della dell'applicazione dell'assegno di inclusione errore che c'era già ai tempi della rdc si ripresenta ancora collati io io non so esattamente in che mani obiettivamente viene gestita la cosa ma siamo un livello di incompetenza vabbè in fondo c'è un governo che sta svendendo il paese ma sembra che nessuno se ne accorga e che tra l'altro invece voglio segnalare una cosa a cui ringrazio sostenitore di conte io vorrei sapere chi sono quei personaggi che hanno offeso gli alluvionati emiliani perché li vorrei incontrare uno a uno così voglio vedere quanto sono coraggiosi quando escono da dietro un pc a scrivere certe porcherie ciao a tutti gente